Maria Luisa Di Guilmi, segretario provinciale di UGL Terziario, allora come è andata l'assemblea dei lavoratori del centro del basto, in particolare del Conad Superstore? Nell'assemblea abbiamo riportato quello che si è detto all'incontro sindacale con i vertici aziendali, le proposte fatte chiaramente dall'azienda, nello specifico l'azienda chiede ulteriori sacrifici ai lavoratori per cercare di evitare poi i licenziamenti, però sono proposte anche in serie di assemblee che non sono state prese molto bene perché comunque vanno a incidere su diversi istituti contrattuali, perché la proposta è stata fatta di eliminare le anzianità di servizio, quindi azzerare tutti quelli che sono gli scatti di anzianità e con quello che ne consegue chiaramente decurtazione di stipendio e anche a livello pensionistico perché ha incidenza un po' su tutto. Oltre a questo è stato chiesto perché chiaramente questo non è sufficiente ad eliminare completamente l'esubero e quindi sono stati chiesti ulteriori decurtazioni delle ore lavorative contrattuali. E come terza ipotesi l'unica cosa che metterebbe poi in campo CONAD, proprio casa madre, per quanto riguarda un incentivo all'esodo, però non hanno fatto una quantificazione di quant'è questo incentivo e quindi chiaramente hanno parlato di cifre molto esigue, sicuramente sotto i 15, sotto i 10, cifre molto basse. Ci sono lavoratori e lavoratrici che si avvicinano all'età pensionabile? Ma ce ne sono a livello di età qualcuno prossimo, un 5-6, però non sappiamo come poi siano messi a livello contributivo. Quindi eventualmente bisognerebbe lavorare su un incentivo abbastanza corposo e cospicuo dell'azienda per poterli accompagnare. Però è ancora tutto in fase di valutazione. Al momento il volere dei lavoratori è quello di non accettare queste condizioni, di lavorare e cercare soluzioni meno onerose da parte di sacrifici e da parte dei lavoratori. Prossimo passo? Prossimo passo abbiamo l'incontro programmato già con l'azienda di rivederla il primo agosto e quindi riporteremo che così come è stato posto non sono disponibili i lavoratori. La controproposta che è stata fatta, almeno da Ugelle Terziario, è quella che siccome Conad comunque vanta abbastanza crescita sia sul territorio, cioè in via di espansione ulteriormente, quindi comunque sta messa bene come azienda, è solida e quindi di farsi carico e sostituirsi a pianeta nella gestione di questi esuberi. Quindi la proposta è stata fatta che sicuramente questa società gestisce il marchio Conad. Gestendo il marchio Conad sicuramente ha dei costi da rigirare a Conad per il marchio. A Conad abbiamo chiesto di accontentarsi di una cifra inferiore per poter appunto poi dirigere, dirottare queste cifre per salvaguardare i posti di lavoro. Questa è una proposta, l'azienda chiaramente ci dice che non è disponibile. Stiamo valutando delle azioni di protesta, delle azioni di lotta affinché portare Conad a conseguire questi risultati. Elena Zanola, segretario provinciale della Filcamps CGL. Allora com'è andata questa assemblea con i lavoratori del Conad Superstore di Vasco? Abbiamo fatto tre turni di assemblea che sono state belle partecipate perché ovviamente questi lavoratori sono anni che stanno lottando e stanno facendo sacrifici per mantenere il proprio posto di lavoro. Posto di lavoro che insomma hanno da vent'anni, questo è un ipermercato storico della zona e questi sono lavoratori storici di questo ipermercato. Quindi grandi professionalità e persone insomma persone molto valide che sono già cinque anni che fanno sacrifici riducendosi l'orario di lavoro per cercare di risollevare le sorti dell'ipermercato. Siamo arrivati alla fine degli ammortizzatori sociali e quindi abbiamo avuto l'apertura ufficiale di un'ultima procedura che ovviamente non ha ricadute di ammortizzatori e quindi bisogna trovare delle soluzioni. Noi abbiamo fatto il primo incontro con l'azienda e intanto abbiamo molti dubbi sui numeri perché secondo noi l'equilibrio sostenibile che l'azienda dice di voler raggiungere togliendo 45 teste da questo ipermercato non è assolutamente sostenibile, non è realistico. Quindi i numeri dell'esubero secondo noi non sono questi e sono molto più contenuti, vanno ancora discussi e approfonditi. Dopodiché le ricette che ci abbiamo dato per ora che significano semplicemente il sacrificio ancora solo dei lavoratori in termini di diore, in termini di diritti acquisiti, non era accettabile. Quindi abbiamo comunque correttamente riportato tutto ai lavoratori e quello che abbiamo deciso è che abbiamo altri 60 giorni davanti per discutere e noi li useremo tutti perché dobbiamo trovare, scavare, trovare tutte le soluzioni che ci possano portare all'azzeramento degli esuberi. Abbiamo di fronte un marchio fiorente e abbiamo di fronte quindi anche la possibilità di agire tutte le leve che possano appunto azzerare l'esubero. Secondo la CGL come si esce da questa situazione di crisi? Allora intanto indubbiamente bisogna appunto bisogna usare tutta la strumentazione che abbiamo a disposizione. Ad esempio anche altri grandi marchi del commercio hanno incentivato ovviamente all'esodo anche il ricambio generazionale che può anche essere come dire anche una politica aziendale ma non solo i marchi del commercio. Penso anche ad Autogrill ha fatto delle fortissime operazioni anche utilizzando insomma la tecnica dei prepensionamenti. Visto che qui stiamo parlando di persone che sono appunto tantissimi anni che contribuiscono a far crescere il marchio quindi innanzitutto bisogna adottare questa soluzione. Poi qui c'è anche una forte stagionalità quindi bisogna anche immaginare di incentivare questa stagionalità e poi tutto quello che appunto una grande macchina commerciale come Conat può proporre per rilanciare insieme ai lavoratori. I lavoratori sanno che comunque la situazione è delicata, non si illudono di poter che arrivi qualcuno e gli risolva tutto. Però proprio perché hanno fatto cinque anni di sacrifici pensano che insieme alla proprietà debbano essere trovati gli strumenti perché nessuna famiglia rimanga senza reddito e senza lavoro. Stefano Murazzo della Fisa Scatto e Cisle come si esce da questa situazione di crisi che sta attraversando il Conat Superstore di Vasco? Ma da questa crisi si può uscire solo con l'unità dei lavoratori e soprattutto con l'aiuto dell'azienda che deve proporre e fare proposte che possono essere recepibili da parte dei sindacati in modo tale da eliminare l'esubero perché una cosa deve essere chiara. Noi siamo pronti e propensi a ragionare su un accordo ma l'accordo deve essere atto a eliminare gli esuberi, non a diminuirli, a eliminare gli esuberi. Io sono sicurissimo che con la concertazione si possa arrivare a questo livello. Ecco, soluzioni alternative rispetto agli esuberi, rispetto a ciò che vi ha detto l'azienda, ne avete proposte? Soluzioni alternative ne possiamo trovare ma soprattutto è sempre l'azienda che deve mettere qualcosa e deve proporre qualcosa perché Conat comunque è una cooperativa di soci imprenditori che comunque viva un ottimo momento e questo quindi deve portare in questo momento Conat a ragionare sulla preservazione dei posti di lavoro. Ora il primo agosto avremo il secondo incontro dove inizieremo magari a mettere dei puntini su quello che Conat stesso ha proposto per arrivare ad una soluzione e quindi alle preservazioni dei posti di lavoro e soprattutto in una società come questa attuale dove si vive di crisi, di non far perdere la redditività a 45 famiglie. Vi sono stati forniti i dati relativi alle vendite perché poi questo penso sia il punto su cui si impernia tutta la procedura relativa al rischio di licenziamento. Sì, dei primi dati sono stati forniti. Per quanto riguarda i sindacati non sono esaustivi, bisogna dare ancora più a fondo rispetto a quei dati. Faccio un esempio, nei dati non compaiono le differenze inventariali, non compaiono i furti che comunque in qualche modo o maniera possono andare ad intaccare quello che può essere il fatturato e la redditività di un'azienda. Grazie.